Cristian, oggi protagonista ma sfortunato, ci è mancato proprio poco. Sì, è mancato poco, come tu dici, è partita la salita, i primi chilometri, io sapevo che devo fare così, è fatto, ha mancato qualcuno secondo, dai, 5 chilometri arrivo ma preso girarci, io sapevo che lui era molto rapido, dai, secondo, sono contento di questa settimana perché mardi io fai 5 giorni alla Mercantur e oggi ho fatto 200 giorni. Hai un'ottima condizione, adesso sei pronto per il Tour de France? Sì, sì, vengo trabajando abbastante bene e ho stato bene oggi, no, no, io normalmente non faccio il Tour de France. Prima, scusa, prima giro di Svizzera o del Finato? No, 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 un momento a Sitanì.